buongiorno allora qui a pomeriggio della domenica 6 giugno 2015 abbiamo come ospite guglielma rotterdam guglielma rotterdam ecco lei che ha vinto il record di mollette attaccate su capelli facciamole pure entrare buongiorno allora io ho una proposta da fare come vede io ho altre mollette qui allora vorrei domandarle lei come vedete ha mollette sui capelli lei è in grado di mettersi altre mollette sui capelli per superare il suo record di otto mollette sui capelli ci provvediamo è molto difficile prego siamo tutti in ansia un'altra molletta sono molto ciccato e siamo a 10 mollette 11 ragazzi il record è imbattibile ora non si può più battere questo record altri due poi non ce la farà più cavolo fanno male e ci sono i canarini che continuano a cantare a quante siamo oh ma poi le conterai devo dire che le stanno a pennello veramente ha finito oppure c'è no io ho preso quella spaccata ma non metterli insieme devi fare una codina alla volta mi sono stirata via tutti i capelli allora aspettiamo che guglielma finisca non ci credo guardate quante mollette che si sta mettendo con questo fantastico cestino che se volete costa 9 euro e 99 ma anche un euro con sconto di un centesimo è molto bello guardate se volete potete anche girare questo video lo mando ai guglielmi ai guglielmi ai guglielmi ai guglielmi ai guglielmi ai guglielmi ti prego mettiamola l'ultima oh ragazzi non so quante mollette ha ma sono molte e il record è suo come potete vedere quindi se avete qualche un paio di mutande sporche per attaccare se volete lei ottiene una molletta cioè se la da così perché sto cambiando voce dall'inizio del video allora abbiamo un paio di domandine da fare a questa guglielma sono qua che bella che è veramente molto mollettosa guglielma perché quest'idea di fare questo record perché io volevo appendere le cose e un giorno non avevo spazio nel il filo e me lo sono preso ai capelli e da lì è nata l'idea allora devo dire che tu a casa hai molte cose spazie da lavare come la nostra Laura si mette tutti i capelli come la nostra germa del sud perché questo ha scelto di fare due colori di molle eh perché ho visto che in questi giorni che va molto mi sta venendo giù la mocca che va molto va molto il blu e il bianco insieme allora proponiamo a coloro che è anche il blu e il rosso veramente vanno benissimo vanno a pennello ah ma guarda quello scuoto cade giù l'intagno allora proponiamo a coloro che fanno le sfilate di moda che insomma che ci siano vestiti con le mollette che ci siano tasche per le mollette che ci siano cappi capelli cappelli e cappelli perché non le vuole molto allora vogliamo far entrare quello che premia la nostra Guglielma per colore scusate io sono emozionata non ci posso credere non ci posso credere oddio no come potete vedere la nostra Guglielma ha ricevuto il il disco di plaudica come altre ricevuto hai pinta è indovamente bella cioè seguiteci noi siamo qui ogni pomeriggio al pomeriggio della domenica del 6 o del 7 o del 5 naturalmente sulla 5 si taglia 1 sulla 8 non si su 5 su 6 ma anche su 5 ma anche su 9 ma anche su 9 questi